La formazione è fondamentale anche nella prevenzione degli infortuni e per questo si batte il sindacato autonomo COFSAL. La formazione in questo momento di ripresa è strategica perché attraverso la formazione possiamo agire in chiave preventiva per affrontare il dramma degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro. Agire preventivamente significa fare informazione, assistenza, consulenza, formazione per le aziende istituendo a tal fine un polo unico nazionale che possa portare avanti a livello nazionale un'opera di coordinamento di tutta la prevenzione.